Bene ragazzi, oggi cominciamo la gara di geografia Dunque, vediamo Qual è la capitale dell'Egitto? Il Cairo E qual è la capitale dell'Irlanda? Io, io, io Prof Dublino E ora attenzione, qual è la capitale della Germania? Ah, Merlino Grazie a tutti Grazie a tutti Allora, hai capito perché sei lento? Capito cosa? Io ho un segreto Un segreto Ragazzi, scusate E la capitale della Spagna? Madrid Se è davvero vuoi crescere ben Sempre ventura devi mangiare Se vuoi essere un vincitore Tutta la frutta devi mangiare Allora non hai capito il vero segreto Qual è il mandarino? E' solo un uomo Grazie a tutti Anche a tutti Ciao